Sono in corso le celebrazioni per il 450esimo anniversario della morte di San Salvatore da Orta, in vita riconosciuto grande taumaturgo. I fratti minori della Sardegna hanno organizzato la peregrinazio del Corpo del Santo dalla chiesa di Santa Rosalia di Cagliari. Questo pomeriggio le spoglie sono arrivate a Sassari, nel santuario della Madonna delle Grazie. La devozione dei sassaresi a San Salvatore è dovuta a un particolare evento avvenuto circa 40 anni dopo la morte. Un suo confratello sacrista, trasferito da Cagliari al convento di Sassari, pensò di portare con sé il cuore del santo. Giunto in città, si pentì del suo gesto e consegnò la preziosa reliquia al superiore. Questi rimproverò il frate ladro, ma si guardò bene da restituire il cuore. I fratti dedicarono all'ostensione della reliquia una cappella con l'altare lineo di fattura spagnola. Oggi la messa è stata celebrata dal custode dei fratti minori della Sardegna, padre Salvatore Morittu. Il corpo di San Salvatore da Orta rimarrà a Sassari fino a domenica. Alle 18.30 l'arcivescovo padre Paolo Azei presiderà una solenne funzione religiosa. Subito dopo si concluderà la peregrinazio con la partenza delle spoglie.